Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. State freschi? Avete qualcosa di fresco da bere? Ah, questa volta ascoltate un mio consiglio. Aspettate a berlo, tenetevelo per la fine, perché chissà che magari questa volta non berremo. La storia di oggi è una storia che ci riporta nell'antica Roma. Ci riporta al primo secolo d.C., in particolare al periodo tra Claudio e Nerone. Non è però una storia di un imperatore, non è la storia di un generale, non è la storia di un'imperatrice, ma è la storia di un'avvelenatrice. Una donna proveniente dalla Gallia, che si diceva chiamarsi Lucusta oppure Locusta, ce ne sono varie versioni, una donna che era giunta a Roma come una schiava, ma che molto rapidamente si era affrancata ed era diventata molto nota, molto famosa, per una sua particolare abilità, la conoscenza delle piante, la conoscenza dei loro effetti, ma soprattutto la conoscenza dei veleni che dalle piante derivavano. Pare che una volta giunta a Roma, una volta affrancati, si avesse messo in pratica tutte quelle conoscenze che aveva imparato in Gallia, avesse aperto un suo piccolo studio, e a lei si rivolgessero ricchi, potenti senatori quando volevano eliminare in qualche modo un loro avversario. Pare che Lucusta fosse specializzata nella creazione di veleni che erano in grado di simulare delle morti apparentemente naturali. Bastavano poche gocce o un po' di polvere dei suoi veleni messo in una coppa, messo tra il cibo, affinché chi le ingurgitava, poche ore dopo, quasi come si fosse trattato di un infarto, morisse improvvisamente, rendendo quindi impossibile capire non solo che si fosse trattato di un assassino, ma ovviamente anche chi fosse la mala da averlo fatto, e soprattutto chi fosse il mandante. La storia di Lucusta però cambia quando a rivolgersi a lei è un'imperatrice, Agrippina. Voi sapete che Agrippina era l'ultima moglie di Claudio, nonché madre di Nerone. Bene, Agrippina dopo aver sposato Claudio aveva cercato di convincerlo ad adottare Nerone, ma Claudio un figlio ce l'aveva, britannico, e quindi Agrippina in qualche modo aveva bisogno di liberarsi del marito di modo che il figlio potesse salire al trono, magari quando era ancora abbastanza piccolo perché poi a controllare effettivamente il trono fosse proprio lei, cioè la madre Agrippina. Per questo pare che Agrippina si fosse rivolta a Lucusta, la quale aveva preparato il suo veleno che, come viene raccontato dalla tradizione, venne sparso nei funghi di cui Claudio era particolarmente ghiotto e che quando questi mangiò lo portarono alla morte. Esiste anche un'altra versione secondo la quale in realtà il veleno era stato messo in minima quantità nei funghi di modo da non portare a morte l'assaggiatore, ma fece comunque starmare Claudio e gli venne invece dato sotto forma di acqua mischiato a dei liquidi quando Agrippina cercò, almeno fingendo, di aiutarlo. Quindi questo doppio avvelenamento fatto proprio per evitare che in qualche modo si potesse scoprire il tutto. Ad ogni modo, una volta morto Claudio, Nerone salì al potere e l'Ocusta riprese i suoi normali uffici. Fino a quando, circa due anni più tardi, non venne scoperta, venne accusata di essere un'assassina e venne condannata a morte. Nerone però, che ovviamente sapeva di dove era lei così tanto, intervenne, la salvò e ne fece una propria avvelenatrice principale, anche perché aveva ancora un obiettivo da eliminare. E quell'obiettivo ovviamente era Britannico. Britannico, cioè il figlio naturale di Claudio, era ancora vivo e una volta cresciuto avrebbe potuto diventare lui imperatore, soppiantando proprio Nerone. Era così necessario eliminarla. Non era facile. Britannico era controllato a vista, aveva uno stuolo di assaggiatori. Ovviamente non era facile per Nerone avvicinarlo e bisognava trovare un qualche veleno che lo uccidesse facendo sembrare tutto il più naturale possibile, anche per evitare maldicenze sul suo conto che potessero minare la sua figura di imperatore. Pare che Locusta inizialmente non fosse riuscita. Aveva creato un veleno, era riuscita a spargerlo nel cibo di Britannico, era riuscita a farlo passare oltre le maglie della sicurezza, ma quando Britannico l'aveva preso era sì stato male, ma poi si era ripreso. Pare che Nerone di questo si fosse infuriato tantissimo, giungendo a colpire Locusta, a minacciarla di morte, ma questo gli aveva fatto presente che se avesse prodotto un veleno troppo forte il risultato non sarebbe stato quello voluto. Il secondo tentativo però andò a segno. Questa volta il veleno venne sparso. Secondo alcuni venne messo ancora una volta una piccola quantità nei cibi, cosicché l'assaggiatore non ne venisse colpito, e il resto venne invece sparso nelle varie brocche di liquidi che c'erano intorno al figlio di Claudio. Ad ogni modo Britannico morì. Ancora una volta la storiografia pensa avvelenato, ancora una volta si pensa avvelenato proprio da Locusta. Questa seconda vittoria, tra virgolette, trasformò Locusta in uno dei servitori più fedeli di Nerone, che pare che ricorse ancora più volte ai suoi servigi, anche se ovviamente anche la storiografia romana non ci dà dei numeri effettivi. Il destino di Locusta sarà però legato a quello del suo padrone. Pare che sia stata lei a fornire a Nerone il veleno con cui, una volta caduto in disgrazia per non essere catturato, Nerone si uccise, ma una volta che Nerone fu morto Locusta venne catturato. Una volta che Galba salì al trono la fece infatti catturare, la fece imprigionare, secondo la tradizione la fece violentare da una giraffa, non lo so, questa è la tradizione pubblicamente, e poi la fece uccidere. Secondo un'altra versione venne invece ucciso e poi il suo corpo bruciato. Ad ogni modo, in questo modo, nel 69 d.C., sotto il regno dell'imperatore Galba, che non regnerà, come vi ho già raccontato ancora a lungo, terminava la vita di una delle prime serial killer, se così vogliamo dire, anche se in effetti potremmo dire un assassino prezzolato conosciuto della storia. Le vengono imputate un numero molto variabile di morti. C'è chi parla di 4, 7, una decina di morti, che sono quelle più o meno accertate, c'è chi parla di addirittura 300, 400 morti causati dai suoi veleni. La realtà, ovviamente, non la sapremo mai. Ma, se avete ancora in mano il bicchiere da bere, io vi consiglierei di pensarci un attimo prima di berlo. Non faremo il cin cin e ognuno di voi deciderà se bere oppure sdifermarsi, casomai una locusta di qualche forma sia passata a versarvi qualcosa. A presto! Grazie! Grazie!